Non mi sento assolutamente l'uomo in più, sono contento di essere rientrato in campo e voglio continuare e spero di dare una mano alla squadra ma non mi sento assolutamente l'uomo in più. Noi dobbiamo sempre provare a vincere, siamo il Pescara e dobbiamo sempre provare a portare a casa i tre punti. Per domenica è stato un peccato perché abbiamo fatto tanti di rinporto, abbiamo sprecavo tanto e meritiamo ampiamente la vittoria ma sono sicuro che ci rifaremo domenica con la Gelbison. Vogliamo arrivare terzi e per farlo bisognerà iniziare a vincere subito domenica. Come ho detto noi dobbiamo provare a vincere tutte le partite, poi lo dirà il campo se ci riusciremo oppure no. Sono una squadra fastidiosa, tutte le partite in questa categoria sono difficili, non esistono partite facili, infatti anche all'andata è stata una partita tirata che abbiamo sbloccato soltanto verso la fine e sappiamo che può essere una partita tosta come quella dell'andata, però come ho detto vogliamo cercare di portare a casa i tre punti. Come diciamo in tutte le squadre forti c'è sempre concorrenza sia in attacco, centro campo, in difesa, quindi io lavorerò, cercherò di dare il massimo, di apprendere dal nuovo allenatore e poi il resto verrà da sé. Come ho già detto l'altra volta l'ultimo giorno di mercato mi era stata riferita questa possibile approdo al Crotone, io comunque l'avevo accettato e poi è saltato tutto per documenti, non ho capito bene, però ripeto io sono un giocatore del Pescara, siamo andati lì in prestito, quindi io penso adesso a stare qua, a stare al Pescara e cercare di dare il massimo. Sicuramente il lavoro è un lavoro importante, stiamo cercando di capire i meccanismi di gioco e tutto e speriamo di riuscire a entrare subito nell'ottica del gioco del mistero. Io ho giocato sia 4-3-3 sia trequartista, quindi quello poco importa, l'importante è comunque sempre dare il massimo e cercare di stare sempre bene. Ogni domenica noi dobbiamo cercare di andare in campo per vincere, quindi daremo il massimo e speriamo di portare a casa i tre punti.